E' stato pubblicato sul portale web del comune di Giffoni 6 Casali il bando finanziato dalla regione Campania nell'ambito dell'avviso pubblico benessere giovani organizziamoci. Il progetto si pone come obiettivo di formare 52 giovani. L'intero corso di formazione non comporterà alcun costo a carico degli iscritti. La domanda di partecipazione alle attività previste dal percorso formativo può essere presentata da giovani in possesso dei seguenti requisiti. Età compresa fra i 20 e 30 anni, residenza nella regione Campania e diploma di scuola media superiore oppure del diploma di laurea. L'istanza dovrà essere inviata per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata. Il progetto, afferma la delegata alle politiche giovanili Rossella Palo, si articolerà in tre step fortemente interconnessi in una logica di crescita progressiva dei partecipanti.